ebbene carissimi amici abbiamo ottenuto ancora una volta un grandissimo esito di ambosecco nell'estrazione del 3 settembre con l'ambosecco 9013 vinto sulla ruota di palermo con l'ultimo metodo spia che ho presentato sul mio canale tutti quanti ne siete testimoni perché tantissimi di voi hanno vinto l'ambosecco 1390 a palermo e questa è la testimonianza vincente originale documentata che uno dei tanti utenti che mi seguono mi ha inviato adesso cosa succede per gli amici che dopo questa vincita noi ancora una volta cercheremo di vincere il 90 a palermo perché perché la spia 14 chiama il 90 di palermo ogni volta che 14 esce sulla ruota di cagliari per gli successivi 13 colpi andremo a mettere in gioco il solito 90 con gli 8 ambisecchi su unica ruota di gioco di palermo lo tenteremo anche in quarta e quinta posizione determinata quindi giocheremo il fisso 90 quindi dopo che vedete il 14 uscire su palermo su cagliari scusate giocherete il 90 a palermo con questi fisso 50 23 24 80 85 13 16 41 attenzione se volete segnarvi bloccate il video e questi sono gli abbinamenti per anno vediamo qualche esito potete notare l'estrazione del 13 febbraio sortiva la spia ed ecco l'ottavo colpo pagare due ambisecchi condizione del 6 marzo nono colpo ambosecco 13 90 24 aprile non vado al decimo colpo addirittura quattro ambisecchi quindi 5 maggio guardate 90 50 90 24 quinto colpo 90 23 questa è un po' la statistica non ve la faccio non ve la commento tutta altrimenti vi faccio un video troppo lungo ma potete notare come questo metodo ha veramente dato degli esiti e anche esiti multipli abbastanza importanti molte volte nell'arco di 12 colpi è dato anche 4 5 ambisecchi quindi è un metodo spia molto interessante un metodo spia che potrete applicare sempre quindi volte per la scena 14 uscita su Cagliari due luci per giocare il 90 sulla ruota di Palermo potete notare come sul mio canale youtube vi sto dando diverse spie per vincere il 90 di Palermo quindi vi consiglio di segnarvi tutte le spie perché quando escono quelle spie avete visto che il 90 di Palermo ce lo andiamo a vincere e lo abbiamo sempre vinto la maggior parte delle volte in ambo secco quindi questa è un po' la statistica ci sono i negativi ci sono gli esiti in cui apriamo soltanto l'ambata 90 è normalissimo non possiamo avere sempre l'esito di ambo secco però pur ci sono delle situazioni come questa del 9 maggio che nell'arco di 12 colpi ci portano a vincere anche diversi ambi quindi andiamo certamente poi a recuperare magari l'eventuale negativo l'eventuale estro di ambata che abbiamo avuto come in questo caso 25 giugno ambata 90 il 11esimo colpi poi 22 luglio ambata 90 però il 31 ci prendiamo l'ambosecco il 6 agosto ci prendiamo l'ambosecco 95 il 7 colpi il 90 e 13 al 12esimo e attenzione dove voglio portarvi l'ultima estrazione quella di sabato ci ha dato la spia ci ha dato la spia 14 su Cagliari e noi andremo a giocare il 90 secco a Palermo con questi 8 ambi secchi attenzione cari amici perché questo metodo negli ultimi 20 casi quindi le ultime 20 volte che il 90 è uscito e che il 14 è uscito a Cagliari come spia ha dato 27 ambate e 45 ambi vinti a ruota secca a Palermo sono tantissimi incrociamo le dita speriamo che arrivi un altro ambosecco con il 90 con uno di questi abbinamenti a partire dall'estrazione di domani 10 settembre 2019 io spero che anche questo metodo ci porti a vincere questo è stato l'ultimo esito che abbiamo ottenuto con il mio metodo di spia esti reali esti documentati ambi secchi vinti da centinaia e centinaia di di voi quindi non parliamo di due o tre persone ma è un ambu che è stato stravinto perché sul mio canale siete in tantissimi a seguirmi e questo speriamo possa essere un altro grandissimo esito di ambos e per adesso un saluto a tutti mister non parliamo